amici di le fonti tv ben trovati e benvenuti a questo nuovo focus oggi siamo in compagnia vado subito a presentarvi la mia ospite di laura corti head of risk and compliance italy for your life insurance lux grazie per essere con noi ben trovata grazie a voi l'argomento di oggi è proprio quello della compliance e come leggete in sovrimpressione il titolo che abbiamo voluto dare a questo nostro approfondimento è il ruolo della compliance nella compagnia assicurativa e direi di partire proprio da qui laura vorremmo capire cos'è la compliance per una compagnia assicurativa e come funziona all'interno di forward you certo allora diciamo che l'obiettivo principale della compliance è conformare l'attività dell'impresa assicurativa alla normativa vigente esterna e interna sia a livello individuale che a livello di gruppo la normativa esterna per intenderci è quella emanata dalle istituzioni governative dagli istituti di vigilanza come per esempio il codice civile il codice delle assicurazioni ma anche la regolamentazione di agenzia delle entrate o banca d'italia mentre invece parlando di normativa interna intendiamo e si intende quella della singola azienda come per esempio il codice etico o il codice di condotta allora laura vediamo se ho capito bene possiamo considerare la compliance parte della struttura ma anche della strategia fondamentalmente di una compagnia assicurativa esatto esattamente così infatti la compliance e le sue funzioni partecipano allo sviluppo e all'attuazione delle linee strategiche definite dalla compagnia attraverso quella che è un'attività di valutazione preventiva dei rischi di non conformità derivanti dall'applicazione del piano strategico stesso quindi per esempio quando si introducono dei nuovi prodotti o delle modifiche ai prodotti esistenti o all'ingresso in nuovi segmenti di mercato o aree geografiche o per esempio all'adozione di nuovi canali o modelli di distribuzione è tutto molto chiaro ipotizziamo un altro aspetto cioè anzi mettiamo sul tavolo un altro aspetto nel caso di lancio di un nuovo prodotto questo è un altro punto fondamentale quale operazioni svolge nel concreto la compliance sì allora diciamo che possiamo dividerle in due blocchi in un primo momento quindi si valutano come abbiamo detto preventivamente gli impatti derivanti dal nuovo prodotto con il quadro normativo di riferimento per raccogliere quelle che sono gli eventuali rischi ma anche le opportunità per l'organizzazione per i processi per le procedure e quindi poi assicurare il rispetto sostanziale delle norme in un secondo momento quindi un secondo blocco avviene invece posteriormente su processi che sono già in essere quindi sulle strutture operative della compagnia perciò per esempio facciamo un esempio l'ufficio pagamenti quindi in questo caso noi andiamo a verificare che la funzione prevenga tutte le attività che possono non essere conformi ok ok una delle cose più importanti è proprio il fatto che siamo indipendenti ecco infatti volevo arrivare lì no? c'è l'indipendenza di base esattamente questa è una cosa fondamentale perché noi rispondiamo direttamente alla dirigenza e questa distanza dalla parte operativa dall'area operativa ci dà un'obiettività fondamentale per questo tipo di attività insomma non c'è rischio che ci sia qualche interferenza ecco mettiamola in questo modo esattamente potete agire indipendentemente e parliamo adesso di quadro normativo perché è una cosa che mi stavo chiedendo e che sicuramente emerge nei pensieri quando si ragiona intorno alla compliance è qual è la differenza tra i compiti della compliance e quelli dell'ufficio legale non si rischia una sovrapposizione? allora diciamo che così pensandoci potrebbe sembrare che ci siano delle aree in cui c'è una sovrapposizione in realtà al legale è riservata l'interpretazione della normativa e la compliance in base a questa interpretazione suggerisce quelli che sono gli adeguamenti da portare a processi e procedure supportando l'azienda nella realizzazione dei presidi più adeguati a gestire il rischio di non conformità alla normativa ok interna e esterna e quindi diciamo che la collaborazione tra le due funzioni legale e compliance è proprio efficace per una conformità sostanziale con quello che è il quadro normativo ecco tutto questo per andare verso una trasparenza totale correttezza dei comportamenti quindi questa doppia diciamo valenza aiuta ancora di più a garantire questo giusto? esattamente Forward U è una compagnia assicurativa sottoposta a doppia regolamentazione qui potrebbe complicarsi un po' la faccenda è per questo che voglio affrontare anche questo capitolo italiana e lussemburghese quali sono quindi a questo punto le garanzie che la compliance può dare e deve dare anche agli agenti da una parte e ai clienti quindi due tipi di platea diversa e di quale tipo? certo allora beh ovviamente come abbiamo detto Forward U è innanzitutto una compagnia lussemburghese quindi in questo senso risponde alle normative e alle leggi che sono emanate dal commissario aus assurance in primis che è l'autorità di vigilanza di Lussemburgo allo stesso tempo però la sede italiana deve rispettare quella che è la normativa emanata dalle autorità locali in primis CONSOB e IVAS quindi la funzione compliance non solo si attiene a verificare che la normativa locale venga applicata ma da Lussemburgo con una visione molto più estesa verificano che vengano applicate anche quelle di appartenenza della casa madre quindi di Lussemburgo chiaramente per la compagnia come giustamente indicava anche lei è uno sforzo molto grande però a mio avviso sia per i clienti ma anche per gli agenti è proprio una garanzia a una stretta conformità alla normativa di settore che diciamo è proprio fondamentale per coltivare quel rapporto di fiducia con i propri assicurati vitale in un business come quello assicurativo certo e peraltro proprio in merito a questa importanza di essere strettamente legati alla normativa dal 2019 Forward You Italia ha deciso di attivare il modello di organizzazione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 in pratica quello che succede è che grazie all'aiuto di uno studio esterno la compliance e il legale ogni trimestre vanno a controllare e a verificare che tutte le aree operative della compagnia agiscano nella maniera appropriata e che quindi non possano essere commessi degli illeciti quindi passiamo dalla corretta e obiettiva selezione del personale alla gestione dei paramenti secondo il principio del doppio controllo l'adeguamento delle misure di sicurezza sul lavoro o la gestione dei dati personali sia dei clienti ma anche dei propri impiegati certo, beh, mi verrebbe da dire che con tutti questi controlli insomma ancora di più torniamo al discorso che facevamo prima la trasparenza, la correttezza sono insomma garantite e credo che per i clienti ma anche per gli agenti sia la prima richiesta in assoluto quando si ha a che fare poi con una compagnia assicurativa quindi insomma questa doppia regolamentazione, questo doppio controllo aiuta ad andare proprio in questa direzione Laura, le vorrei fare un'ultima domanda se possibile secondo, stiamo un po' sulla sua esperienza perché è bello anche riportare proprio le esperienze dirette e storie concrete al di là poi della spiegazione di tutto quello che ruota intorno in questo caso alla compliance secondo la sua esperienza qual è la ricaduta più positiva proprio della compliance nella vita quotidiana di chi appunto come lei lavora per una compagnia assicurativa ma allora diciamo che quello che io reputo essenziale nella funzione di compliance è il rendere accessibile a tutti la legalità cioè fare in modo che all'interno dell'azienda si lavori in modo etico e che quindi tutto l'ambiente lavorativo interno sia, venga rispettato sia all'esterno che all'interno questa condizione del lavoro sano ecco, una condizione che deve essere assolutamente naturale, no? certo quindi attraverso la compliance si può andare proprio a centrare l'obiettivo attraverso la consapevolezza che viene data da l'insegnamento e la formazione rispetto a quelli che sono i principi etici altre parole chiave abbiamo trovato tante parole chiave in questo focus che però sono sempre più richiesti voglio dire con i tempi che evolvono con tutte le possibilità che abbiamo a disposizione trasparenza, sicurezza, lavoro sano, legalità, etica insomma quindi credo che possiamo raggruppare insieme in un unico pacchetto e anche diciamo può diventare anche la morale se vogliamo di questo nostro approfondimento lei ci ha aiutato molto a capire di più quindi grazie a Laura Corti Head of Risk and Compliance Italy Forward You Life Insurance Luxe e mi auguro di poterci vedere al più presto per approfondire altri concetti di questo tipo grazie a voi per l'opportunità grazie per essere stata con noi grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti e continuate a rimanere sulle fonti tv arrivederci